Il 26 dicembre a Caltanissetta nella zona Angeli nel quartiere arabo il più antico di Caltanissetta il presepe vivente. Un presepe appunto portato in scena dagli abitanti del quartiere con i costumi d'epoca ma la cosa più caratteristica è appunto questa zona araba perché qui il comitato di quartiere ha ristrutturato le vecchie case abbandonate a proprie spese, adesso sta pure realizzando questo particolare pavimento chiamiamolo così, proprio per riportare indietro nel tempo, nella storia. Sì, abbiamo su questa zona, abbiamo diverto tutto il ciotolato, abbiamo messo il massetto in gemendo abbiamo messo la rete elettrosaldata e ora stiamo ricollocando il ciotolato. Questo è sempre con la collaborazione dei ragazzi del quartiere che devo ringraziare immensamente perché stanno facendo qualcosa di grande, da premettere che questi ragazzi lavorano la mattina durante il giorno, poi la sera si dedicano anima e corpo al presepe vivente. Questo è un patrimonio che stiamo creando, ieri abbiamo intrapreso un discorso di collaborazione con l'amministrazione comunale che sta andando in bordo, tutti i comitati di quartieri si sono messi a disposizione per collaborare e portare avanti e portare in bordo il presepe vivente sponsorizzando il bus in avetta. Ecco, tutta la città quest'anno, voglio dire, mi incoraggia, mi spinge a lavorare sempre di più perché tutta la città ci è vicina. Quindi stiamo cercando di lavorare il più possibile per dare un patrimonio ben preciso alla città di Caltanissetta. Come ho detto prima, questo presepe è veramente splendido, non solo per i personaggi ma proprio per la zona che è caratteristica. Chi volesse venire da fuori, quando può venire? Dal 26 dicembre fino a quanto e in quali orari? Allora, potrà avvenire, inizieremo il 24 e ci sarà l'indronizzazione della Sacra Famiglia a cura del nostro vescovo Monsignor Mario Russotto che la notte del 25 intronizzerà la Sacra Famiglia come dicevo e inizieremo poi l'inizio del presepe, inizierà il 26 di questo mese, sarà il 26, 27, 28, il 30 poi l'1, il 4, il 5 e il 6 con la conclusione dell'adorazione del Re Maggi. Sempre nelle ore serali? Sempre nelle ore serali perché purtroppo grazie alla collaborazione sempre dei nostri figuranti non possiamo pretendere di più. Quindi dalle 19.30 in poi? Dalle 19.30 fino alle 22.30 il presepe sarà aperto alla cittadinanza di Sena.